Riprendiamo il concorso con il coro Melodia Kammerkour Auskirkyu di Reykjavik Islanda. Direttore Magnus Ragnarsson. Il coro eseguirà di Edward Elgar, The Show World, e di Ola Jelo, Unicornis Captivatur. A presto, a presto. Grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 , 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 ,... ,... ,... ,... ,... Grazie a tutti Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.